ciao e benvenuti in camperis io sono lorenzo oggi andremo a vedere insieme il furgonato laica cosmo camper van 5.4 questo è senza dubbio l'epoca dei van chi lo sceglie per moda chi per emulazione chi per necessità chi per passione ma per ognuno di questi casi non possiamo certo dire che sia una scelta sbagliata ma diamo un'occhiata più da vicino tra silvi giramondo nomali digitali smart work e chi più ne ha più ne metta il furgonato è diventato una delle scelte più gettonate molte nuove produzioni si stanno adeguando al mercato rendendo molti di questi mezzi commerciali ma alcuni di questi riescono a mantenere viva la propria personalità 140 cavalli cambio manuale cerchi da 16 pollici pratica autoradio 2 din con retrocane camera e sensori di parcheggio una stupefacente visione su strada sedili regolabili e girevoli comodi ed ergonomici con regolatore di pressione delle sospensioni sottostante splendida cucina super compatta con frigo incastonato piano cottura alimentato a gas con due fuochi e lavello con copertura annessa spazioso frigorifero a compressore con vanno congelatore bagno con porta ingresso pieghevole con lavello e doccino estraibile specchio a parete wc regolabile con spie di segnalazione riempimento cassetta e doccia con piatto doccia in comune un intimo privato spazio personale per la sera composto da tre materassi rimovibili e doghe ribaltabili con luminosi oblò e finestre provviste di oscuranti e zanzariera aggiungiamoci anche pannello controllo di riscaldamento truma boiler e centralina servizi tendalino esterno laterale retrocamera gancio di traino vasto gavone posteriore sotto ai letti e vanno per due bombole del gas se pensi che questo modello possa fare il caso tuo o volessi avere qualche informazione aggiuntiva puoi contattare il nostro servizio clienti scrivendo un messaggio whatsapp al numero 345 041 8509 e seguici sui nostri profili soggi youtube instagram facebook tiktok e sul nostro sito ufficiale www.camperis.it io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo sul prossimo camp